A breve sarà posizionato il manto in erba sintetica dello stadio Marco Tromaselli. Tra 60 giorni lo stadio avrà il nuovo manto erboso, sarà nuovo di Zecca. Ed è quel manto che arriva con i finanziamenti del CONI, 827 mila euro, secondo il progetto che riguarda le misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane. È stata così affidata la gara da parte del comune ad un'azienda di ganci, con un ribasso del 34%, a base d'asta 621 mila 752 euro, e quindi oltre 200 mila euro di ribasso. Più gli oneri di urbanizzazione prevedono l'impianto di nerba artificiale composta da fibre in politinene antiabrasivo resistente all'usura. Le fibre saranno resistenti anche al fuoco e avranno un'altezza di 65 millimetri. Dunque ci sarà anche compresa la realizzazione degli impianti di irrigazione e drenaggio. I tempi previsti sono appunto 66 giorni e dunque i lavori dovrebbero cominciare al più presto.